Grazie a tutti. La signora Maffei, insegnante e separata, è stata vista per l'ultima volta indossare un piumino chiaro, un copricapo e uno zaino scuro senza portare con sé documenti. La sua abitazione, situata in via fiume vicino all'istituto di istruzione superiore secondaria Tommaso Fiore, è stata abbandonata intorno a mezzogiorno di mercoledì. Il figlio, incapace di contattare la madre, ha allertato i carabinieri, sospettando che la donna possa aver portato con sé una piccola somma di denaro in contanti, lasciando i documenti a casa. Gli investigatori stanno esaminando i video della telecamera di sorveglianza della zona per ottenere ulteriori indizi sulla scomparsa di Giulia Maffei. Grazie a tutti. Grazie a tutti.